Si esibiranno stasera, dinanzi al premio Nobel per la pace a Aung San Suu Kyi, il tenore Roberto Cresca e il pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara, assessore alla cultura del Comune di Riposto. L'esibizione si terrà presso lo Strand Hotel di Yangon, in Birmania, dove entrambi gli artisti si trovano attualmente ospiti dell'ambasciatore italiano Aliberti. Per noi rappresenta un onore, oltre ad una reale commozione ed emozione, poter onorare la cultura dell'Italia di fronte ad un così alto esponente della pace nel mondo, che tanto si è battuta per conquistare la democrazia nel suo amato paese, hanno dichiarato i due artisti. Il concerto sarà eseguito dinanzi a un pubblico proveniente da tutto il mondo, sotto l'alto patrocinio della Farnesina e l'egida della Presidenza della Repubblica Italiana. Dati questi impegni che portano Pappalardo Fiumara lontano da Riposto, è visto che proprio in questo periodo anche il primo cittadino caragliano è fuori sede, è stato nominato vice sindaco l'assessore Grasso, atto che, come ci ha spiegato lo stesso Pappalardo Fiumara, è dovuto, perché in caso di grave emergenza il potere di firma è posseduto solo dal vice sindaco.